Signore e signori ci siamo Qualche giorno fa il mondo intero degli appassionati di telefonia mobile ha urlato al miracolo Google ha presentato il Nexus 5 nella variante rossa Ed eccolo qui! No non è vero stavo scherzando a sciaccarelli Quello era un Nokia 1520 ma è sempre rosso In realtà signori il Nexus 5 rosso è qui Un meraviglioso dispositivo Google Experience Che si caratterizza per il suo tipico colore rosso Infatti la differenza rispetto agli altri Nexus 5 risiedono proprio in una caratteristica fondamentale per uno smartphone oggigiorno Esatto, è rosso In questo video faremo un veloce e meraviglioso unboxing Lo so che sapete che a me non piacciono tanto gli unboxing ma me l'avete chiesto Nel quale vi farò vedere il nuovo Nexus 5 rosso in tutto il suo splendore Perché voi mi dite quello che devo fare e io lo faccio Insomma io sono Dario Caliendo e questa volta apriremo assieme il nuovo smartphone di Google tutto rosso Allora ragazzi eccoci qua Io ho preso dalla fogoggia e aperto lo smartphone Devo dirvi la verità Però lo riapriamo assieme perché è sempre bello condividere queste cose cari E voilà E questo è il Nexus 5 rosso Ok ciao Non è vero ragazzi stavo scherzando sono proprio un giocarellone Ecco il Nexus 5 rosso La colorazione rossa è molto 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 accesa È evidenziata anche dal materale con il quale è realizzata la back cover Che a differenza della colorazione bianca Della colorazione bianca del Nexus 5 Copre anche i bordi Quindi i bordi sono colorati Nel Nexus 5 bianco in realtà i bordi non sono colorati In realtà non c'è nessun'altra differenza Come abbiamo visto nel Nexus 5 bianco l'altoparlante segue il colore della scocca posteriore La fotocamera è sempre la stessa che abbiamo trovato sugli altri Nexus 5 Che poi in effetti cambia solo il colore ricordiamolo Però con la cover rossa spicca un po' di più Tasto d'accensione sulla destra nero Tasti per il volume sulla sinistra neri E questo è il Nexus 5 rosso Non stiamo neanche ad accenderlo perché di questo telefono Non abbiamo parlato in abbondanza nella nostra video recensione Vediamo giusto cosa esce dalla scatola Ma già sappiamo che oltre all'alimentatore Non esce nient'altro E infatti ecco qui Cavo USB nella tipica confezione made in Cina E alimentatore nero nella tipica confezione made in Cina Bene ragazzi sono Dario Caliendo Spero che questo utilissimo video vi sia stato d'aiuto E vi mando un abbraccio Ciao